Nina Bayer crea sculture, installazioni e performance che rivelano la stratificazione di storie culturali e sociali contenute negli oggetti che ci circondano. L'installazione The Guardians sulla pista 500 ha come soggetto i leoni di marmo, un motivo che ha viaggiato per millenni attraverso diverse geografie, trasformandosi generalmente in una rappresentazione del potere, che ancora oggi si può trovare sulle soglie degli edifici o ai piedi dei monumenti. Nel caso dell'installazione di Bayer, i cinque leoni monumentali sono visti invece da soli, in branco e sdraiati su un fianco. Infatti sono disgiunti dalla funzione antropica di ornamento architettonico per potersi finalmente riposare una volta ritornati nella loro condizione selvatica. Per un periodo di diverse settimane l'installazione The Guardians ha subito una trasformazione nell'ottica di ospitare la performance All Fours, ovvero a quattro zampe, realizzata da Nina Bayer insieme alla coreografa Bob Kill. Nella performance il valore selvatico dei leoni di marmo viene ancora più enfatizzato dai corpi di cinque performer che domano i leoni, trasformando la doma in una sorta di simbiotica identificazione con l'animale. La performance capovolge ancora di più i simboli del potere che queste sculture portano con sé e Nina Bayer e Bob Kill sembrano chiederci che cosa dovremmo fare con i monumenti quando non ci riconosciamo più nell'autorità che rappresentano. La scelta di performare al tramonto, quindi con il sole che lentamente scende dietro alle performer e ai leoni di marmo, sembra ancora di più evidenziare una trasformazione epocale tra vecchie e nuove simbologie.